signore e signori benvenuti alla terza edizione del festival del giornalismo l'associazione culturale eraldo dopo la prima e per molti aspetti pioneristica edizione del 2021 è tornata a proporre nel 2022 e in questo 2023 alla città di verona un evento che speriamo possa crescere per durare nel tempo e diventare un importante appuntamento culturale non solo per i veronesi un evento che rispetto alle prime due edizioni è cresciuto i numeri degli eventi dei relatori dei moderatori delle testate locali coinvolte delle location lasciateci ringraziare tutti i nostri partner che rendono possibile questa avventura a cominciare dalle istituzioni che hanno deciso di affiancarci come il comune di verona l'ordine dei giornalisti del veneto il dipartimento di cultura e civiltà dell'università di verona e la fondazione antonio megalizzi proseguendo con il nostro main sponsor getec italia spa e tutti gli altri nostri sostenitori banco bpm the lab cantina monteforte e i plus si ringraziano per il supporto tecnico teatro stabile verona filmica produzioni video di abatelli e libreria pagina 12 pizzeria barberè associazione culturale le ali delle notizie festival del giornalismo ronchi dei legionari best western hotel armando hotel veronesi la torre bosco dei cerri questa edizione ha come tema principale impatto 00 impatto che può essere declinato sotto molteplici accezioni da quella ambientale a quella più legata al sistema delle comunicazioni in italia e nel mondo compito dei nostri numerosi ospiti ed esperti declinare il tema secondo quella che è la loro esperienza e specializzazione professionale il primo incontro di questo festival è dedicato alla tematica ambientale alla sostenibilità ecologica alle difficoltà di far passare determinati messaggi non solo dagli esperti del settore ma anche da parte della politica che ha il compito di trovare e mettere in atto soluzioni che ci portino fuori dalla crisi molto però passa da un cambio di mentalità delle persone nella cittadinanza occorre quindi che il dialogo fra politica esperti e cittadini sia sempre costruttivo e in grado di creare il giusto ambiente per attuare con la collaborazione di tutti politiche ambientali efficaci possiamo dare il via al primo incontro della terza edizione del festival con l'assessore alla transizione ecologica ambiente mobilità del comune di verona tommaso ferrari modera l'incontro dal titolo comunicare la crisi ambientale come perché farlo il direttore della cronaca di verona maurizio battista buongiorno e grazie per essere per essere qui grazie per l'invito grazie agli organizzatori e assessore tommaso ferrari che si occupa di questo difficile tema e di questa delega che è una delle più delicate per un'amministrazione comunale anche perché oltre all'ambiente ha collegato la mobilità e il traffico che vanno di pari passo nel momento in cui vogliamo parlare di transizione ecologica prendo un attimo gli appunti perché altrimenti ecco e la difficoltà è quella come si diceva di comunicarla e di far capire alle persone che prima o poi è necessario cambiare delle abitudini e la prima domanda per l'assessore quindi è perché bisogna comunicare la transizione ecologica che significa transizione energetica cosa di cosa stiamo parlando stiamo parlando della necessità di passare da fonti fossili a ad alta impronta carbonica a fonti energetiche a basse emissioni possibilmente energie rinnovabili assessore la difficoltà di comunicare e perché bisogna parlarne e qual è tanto la premessa da parte dell'amministrazione poi entriamo nello specifico dei vari temi sì intanto buongiorno a tutte e a tutti grazie dell'invito e ovviamente un bocca al lupo a al festival giornalismo che vedo essere sempre più ricco e un'ottima occasione anche di dibattito di approfondimento mi piace anche vedere un pubblico in sala giovane che insomma sarà un po' il depositario anche delle sfide ambientali che ci aspettano ma allora il tema intanto della transizione ecologica che è questo termine anche se vogliamo non troppo sexy perché si usa sempre è un tema legato di fatto a un tema se vogliamo che ha un corollario una premessa assolutamente scientifica cioè ci sono migliaia di scienziati nel mondo che da parecchi anni quindi non da ieri ci dicono che l'effetto dei cambiamenti climatici e quindi nel surriscaldamento del pianeta è colpa nostra di fatto è colpa del nostro modello di sviluppo poi ovviamente in senso non solo europeo ci mancherebbe ma in senso ovviamente a livello internazionale e che dobbiamo virare e quindi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 equivalenti prima possibile per evitare di fatto conseguenze irreversibili che minacciano di fatto la visibilità di questo pianeta per le future generazioni quindi da un punto di vista metodologico io scherzo sempre su questo ma dico o ci dividiamo tra partito degli estinzionisti e dei non estinzionisti cosa che francamente se facciamo un referendum e alziamo la mano su chi è che si vorrebbe estinguere di qui a alcune centinaia di anni credo che nessuno diciamo sarebbe contento quindi l'approccio dell'amministrazione comunale di Verona credo debba essere l'approccio di tutte le amministrazioni comunali e cioè quello di utilizzare tutti gli strumenti possibili per ridurre le emissioni equivalenti di CO2 che hanno molte forme alcune delle quali sono in controllo del comune per esempio il tema della mobilità il tema della riqualificazione energetica edifici il fatto di produrre energia da fonte rinnovabili o stimolare la produzione di energia da fonte rinnovabili investimenti sia su soprattutto in particolare sul patrimonio pubblico in tutto il tema della rinaturalizzazione della città sappiamo che correlato diciamo al tema delle emissioni di CO2 c'è anche il tema legato correlato della qualità dell'aria quindi del particolato quindi sentite spesso PM10 PM2.5 quindi di fatto io credo che per stringere una città che si approccia in maniera virtuosa a questo tema della transizione ecologica è una città che punta sulla salute e la vivibilità dei cittadini ma punta anche sull'attrattività a livello di investimenti del territorio perché secondo me è una delle tematiche più che ha accompagnato il dibattito anche così sociale politica degli ultimi anni e cioè che una sorta di ambientalismo potesse essere un freno allo sviluppo credo che prima di tutto serve ribadire che lo sviluppo che abbiamo conosciuto finora è lo sviluppo insostenibile ma non lo dice Tommaso Ferrari ce lo dicono i dati scientifici e che quindi l'unico sviluppo possibile è uno sviluppo che mette assieme di fatto caratteristiche ambientali con ovviamente caratteristiche se vogliamo di sviluppo economico che servirà in qualche modo ridefinire ridefinire non vuol dire diciamo minare vuol dire semplicemente che non ha più senso consumare suolo per diciamo costruzioni ha molto più senso rigenerarlo non ha più senso investire in combustibili fossili ha molto più senso investire in energie da fonte rinnovabili e quindi serve fare questo passaggio il comune di Verona negli strumenti che ha ovviamente tenderà in tutti i modi di favorire questo tipo di transizione non è tutto in capa noi ovviamente ci sono livelli che sono regionali livelli che sono nazionali livelli che sono europei livelli che sono internazionali però è chiaro ed evidente che ognuno deve partire dalla sua piccola parte assessore è quasi un anno che questa amministrazione è al lavoro e quindi avete avuto il tempo per fare una panoramica per preparare un po gli interventi volevo chiedere in questo campo qui quali sono le priorità eh del comune e gli interventi i primi interventi che pensate di andare a a fare a realizzare sempre nell'ambito della transizione ecologica allora diciamo intanto che ehm se noi facciamo un sondaggio in generale su quanti siamo a favore della lotta ai cambiamenti climatici secondo me se facciamo un sondaggio che qui in questa sala eh non troviamo nessuno immagino eh magari c'è ehm contrario a politiche eh per la riduzione eh delle emissioni equivalenti di CO2 questo mi pare eh diciamo ormai condiviso il problema è che dalla teoria alla pratica cambia che si vanno a toccare le abitudini quotidiane delle persone cioè facciamo un esempio molto concreto così eh ce l'abbiamo tutti in mente se io domani eh una carreggiata di due corsie la metto a una corsia perché do spazio per una corsia è una pista ciclabile è un intervento che sulla carta va nel senso di una mobilità sostenibile è un intervento che però sulla praticità eh limita la sezione per le macchine quindi di fatto dà più spazio altri mezzi questo comporta la reazione dei cittadini non esattamente favorevole e quindi il tema vero secondo me che ha a che fare con la politica sul tema della transizione ecologica è che quando parliamo di transizione ecologica in molti casi la politica deve attuare scelte che sono impopolari e questa tematica secondo me è estremamente interessante perché non si può sfuggire a iniziative di impopolarità se si vuole attuare la transizione ecologica cioè le due cose non sono scendibili ma sono impopolari non perché sono sbagliate sono impopolari perché nel momento in cui l'abitudine persone la cambiamo cioè se voi siete abituati andare a scuola con la macchina e il giorno dopo trovate coda perché c'è una pista ciclabile posto in una strada la vostra reazione non è che bello c'è una pista ciclabile la vostra reazione è uffa per non dire qualcos'altro ci metto mezz'ora in più per andare a scuola penso che mi siete resi conto della difficoltà di cambiare le abitudini veronesi in queste settimane con l'avvio dei cantieri del filobus che solo per far imparare una nuova circolazione viabilistica ci vorrà non dico tutto l'anno dei lavori ma qualche mese di sicuro sì però anche qui facciamo una domanda quando parliamo di transizione ecologica parliamo di processi che non valgono un anno due anni tre anni cioè stiamo parlando di scenari di secoli allora è chiaro ed evidente che la difficoltà più grande che la politica è fare scelte dove non si vede domani mattina il risultato ma probabilmente lo si vede fra dieci anni quindici anni o anche di più allora questa separazione tra la scelta politica e il risultato è di fatto un problema perché necessariamente la politica che si va a scontrare con elezioni ogni x anni deve produrre risultati e molto spesso alcune iniziative che possono avere all'inizio diciamo così un sentimento non esattamente popolare e cozzano con il fatto poi di generare consenso per le prossime elezioni detto questo quindi non è che dobbiamo richiedere una politica che faccia solo azioni impopolari però credo che sia un tema di informazione anche questo cioè se siamo tutti d'accordo che il nostro obiettivo come società non come partito politico come società sia ridurre le emissioni equivalenti di co2 le emissioni equivalenti di co2 non è che le riduciamo in tanti modi quando parliamo di mobilità quando parliamo di mobilità le riduciamo se riduciamo il numero delle macchine se le poche macchine che abbiamo sono elettriche e magari condivise e se le persone incominciano a utilizzare altri tipi di mezzi biciclette trasporto pubblico eccetera è chiaro ed evidente che dobbiamo investire di più in trasporto pubblico dobbiamo creare più infrastrutture ciclabili eccetera eccetera ma anche chiaro ed evidente che la situazione attuale è insostenibile allora anche comunicare questo secondo me è fondamentale il che non vuol dire come dire fare propaganda a un politico a un altro significa però che se tutti noi siamo convinti che la riduzione emissioni co2 sia fondamentale dobbiamo anche far sì che alcune abitudini cambino e quindi serve anche come dire passare da delle strettoie che sicuramente non sono a volte troppo digerite dico c'è la mobilità non c'è solo la mobilità sappiamo che uno dei temi fondamentali è la generazione di energia da fonti fossili quindi noi attualmente nelle vostre case verosimilmente se andate a leggere quelle bollette incomprensibili che ci arrivi arrivano a casa che sono veramente impossibili di leggere vedete che sostanzialmente di fatto se non avete scelto una fornitura di energia fonte rinnovabili al cento per cento il mix energetico italiano quindi da dove vi arriva l'elettricità con cui accendete la luce è di fatto ancora prodotta in larga parte da combustibili fossili che sono in alcuni casi un pezzo di carbone perché abbiamo ancora delle centrali di carbone che dovrebbero essere dismesse e soprattutto da gas cioè il gas entra sostanzialmente ne include queste turbine a gas che producono energia allora questa è un'altra grande sfida come si affronta a livello di città si affronta anzitutto producendo energie da fonte rinnovabili sui nostri bei tetti degli edifici pubblici dobbiamo pannellizzare il più possibile e dall'altra parte sviluppare modelli come le comunità energetiche che sono modelli non più diciamo associati a una grande centrale che distribuisce diciamo a vari utenti ma che sono tutti piccoli produttori adesso la semplifico che si scambiano l'energia a livello locale l'assessore giustamente bravo ha introdotto l'altro tema non possiamo associare la transizione ecologica soltanto alla mobilità e al cambio di abitudini nei nostri spostamenti vado in bicicletta piuttosto che in macchina transizione ecologica significa anche fare i conti con i rincari energetici eh per entrare nel concreto nello specifico vi do due dati di cosa sono stati i rincari delle bollette per il comune di Verona cioè quelli che paghiamo che paghiamo noi la spesa storica per gas e luce fino al duemilaventuno era stata per tutto il comune di Verona illuminazione pubblica edifici eccetera di 18 milioni e 400 mila euro da 18 milioni 400 mila euro siamo passati a 33 milioni 870 mila euro quindi è chiaro che di fronte a questi rincari il comune come padre di famiglia dice non è che possiamo andare avanti ancora in questa situazione perché un anno ce la facciamo abbiamo delle riserve possiamo andare a coprire ma in futuro dobbiamo cominciare a diversificare quindi soprattutto penso con un piano di riqualificazione degli edifici pubblici a partire dalle scuole agli edifici comunali per vedere anche di evitare gli sprechi sì allora io credo che queste scelte intanto è abbastanza curioso abbastanza anche ovvio diciamo diventiamo tutti però rinnovabili nel momento in cui il prezzo energia schizza se domani mattina il prezzo del gas ritorna giù fidatevi che nessuno parlerà più di pannelli fotovoltaici ma il bene se vogliamo da un certo punto di vista c'è male per le tante famiglie che hanno subito questi rincari bene che almeno si pensi all'autoproduzione di energia come una priorità cioè il pannello fotovoltaico che vedete qui banalmente cosa fa prende l'energia dal sole e per cui io riesco a accendere la mia lampadina a casa grazie al fatto che mi autoproduco l'energia e quindi non devo comprare energia diciamo così cosa può fare il comune il comune ha tanti edifici quindi scuole biblioteche edifici pubblici di vario tipo e quindi può mettere i pannelli fotovoltaici sopra i propri tetti e produrre energia questo vuol dire che di fatto non pago l'energia non la compro più ma me l'auto me l'auto produco questo è un tema ambientale perché così facendo non compro più energia da fonti fossili e quindi da fonti che emettono diciamo co2 però è anche un tema economico perché l'energia costa moltissimo e per cui se non me l'auto produco ho grandissime grandissime spese spese che il comune si deve addossare e quindi il comune ha meno spesa meno soldi per investire in scuole strade assistenza sociale rifacimento di campetti eccetera 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 quindi da questo punto di vista credo che sia fondamentale assumere il tema energetico come tema strategico cosa che si sta cominciando a fare con abbastanza lentezza e che non è mai stato fatto nel senso che è anche un tema di competenze la pubblica amministrazione soffre un po di diciamo una mancanza di competenze specifiche su questo tema è abbastanza normale perché perché sono competenze tra virgolette nuove sono competenze di fatto che si stanno sviluppando adesso perché sono un mix di diciamo così tecnologia di sistema quindi anche informatica un tema di tecnologia di come produco l'energia e quindi sono tematiche anche nuove però credo che sia fondamentale porre un punto strategico su questo tema ed è per questo che noi adesso cominceremo a varare questo piano al 2030 che si occuperà essenzialmente di produzione di energia da fonte rinnovabili e riqualificazione degli edifici riqualificazione degli edifici vuol dire che se io ho una casa con un infisso messo male disperdo il calore quindi consumo molto di più per ottenere sostanzialmente lo stesso riscaldamento o se mi voglio raffrescare consumo molto di più energia elettrica per ottenere diciamo la stessa temperatura e quindi spendo più soldi per avere lo stesso comfort se io isolo meglio l'edificio consumo meno energia spendo meno e quindi consumando meno energia inquino anche meno quindi queste due cose van di pari passo ripeto non sono cose che domani mattina riusciamo a riqualificare tutti gli edifici comunali però è importante ci sarà una strategia quando parlavo del 2030 è perché queste strategie devono avere quell'ambito di durata perché parlare di riqualificazione energetica in cinque anni facciamo forse non so il 3 4 per cento 5 per cento mentre dobbiamo dotarci di strategie a medio lungo termine per far sì che siano strategie poi di patrimonio della città qualsiasi amministrazione verrà dopo di noi dovrà proseguire queste scelte ma non perché sono scelte politiche perché sono scelte di fatto ineludibili sono scelte difficile da portare avanti anche per un problema che voi avete come comune ma c'era anche il singolo privato che quello della burocrazia e dei divieti voi probabilmente come comune farete molte proposte per mettere i pannelli fotovoltaici dappertutto bisogna vedere se poi la sovrintendenza ve lo lascia fare per esempio o se ci sono divieti perché c'è centro storico città d'arte non si capisce poi dal punto di vista degli incentivi perché i pannelli fotovoltaici rientravano nei bonus edilizi il governo ha cambiato le carte in tavola non si sa nemmeno se riesce a fare lo sconto in fattura per cui tutti quelli che erano interessati privati a installare pannelli fotovoltaici hanno detto fermi un attimo che cerchiamo di capire quindi mi pare che manchi un piano a livello anche nazionale per dire si rema in questa direzione altrimenti hai le amministrazioni comunali che vanno da una parte le sovrintendenze e il governo che vanno da un'altra e non si capisce diventa difficile è chiaro che devi fare un piano al 2030 perché ora che metti d'accordo tutti ci vuole un po di tempo ma più che metti d'accordo tutti io credo che ci siano anche dei processi adesso facciamo un esempio a casa vostra quanti hanno un'antenna sopra il tetto del vostra casa condominio ecco bene probabilmente sopra il vostro condominio noi possiamo mettere un'antenna ma a volte è difficile mettere un pannello fotovoltaico che è una delle immagini che sta girando nello schermetto che vedete a un certo punto vedete questi pannelli che si mettono sul tetto insomma avete forse presente cosa sono ecco questo perché di fatto noi non abbiamo nessuna limitazione nel metterle antenne perché le consideriamo un'infrastruttura strategica e giustamente lo sono cioè noi dobbiamo avere una connessione un segnale per mandarci i messaggini su whatsapp non so se whatsapp sia ancora attuale immagino di sì ma per me che sto progredendo verso la non più giovinezza è molto attuale e per ovviamente tutta la connessione anche internet eccetera mentre mentre la produzione di fonti di energia da fonti rinnovabili non è considerata così strategica tanto quanto un'antenna ma non solo un'antenna sopra ma anche un'antenna tra virgolette cosiddetta parabolica no quella che non chiamiamo parabolica questo perché perché culturalmente noi riteniamo strategico il tema della comunicazione il tema di portare un segnale tv in tutte le case il che ha anche senso ma non consideriamo strategico poter produrre energia da fonti rinnovabili o autoprodurcela questo è chiaro ed evidente che è un corto circuito culturale perché se noi continuiamo a dire che dobbiamo ridurre l'emissione di co2 e per carità non è che se ognuno di voi ha un pannello fotovoltaico sopra la testa abbiamo eliminato il problema però se diciamo che vogliamo ridurre l'emissione di co2 e poi se voglio mettermi un pannello fotovoltaico sopra il tetto ho mille limitazioni capite che è un tema culturale ma io in questo diciamo questa è un'opinione squisitamente personale per cui da tommaso ferrari ingegnere e non da assessore io credo che anche su i centri storici o comunque le aree vincolate serva fare un ragionamento diverso rispetto all'attuale cioè perché se in italia diciamo che tutte le aree a vincolo ambientale o a vinco storico sono escluse dalla possibilità di mettere pannelli fotovoltaici cioè in italia praticamente ci togliamo l'ottanta per cento del territorio quindi io credo che questo sia veramente un passaggio culturale perché è un tema normativo ma è anche un tema culturale che voi dovete ovviamente prendere in mano nel senso che è la sfida che poi alla fine della vostra generazione guardo chi ovviamente mi sembra giovane e che dovrà prendere in mano perché di fatto questa è una battaglia più che tecnologica molto culturale cioè l'accettazione o meno del fotovoltaico sopra il tetto l'accettazione o meno della pala eolica sul crinale della montagna è un tema culturale cioè chi dice è brutta la pala eolica sul crinale della montagna e non ha però non ha detto fino adesso che è brutto il centro logistico a fianco all'autostrada ma perché cioè e non dobbiamo disquisire se a me piace o non piace la pala eolica che gira o il centro logistico sull'autostrada dobbiamo disquisire se quello è un asset strategico o meno allora questa battaglia culturale è una battaglia che secondo me va fatta emergere anche soprattutto dalle generazioni più giovane più giovani delle mie e che devono prendere in mano questa battaglia che è una battaglia squisitamente culturale non tecnologica perché le tecnologie ce le abbiamo già bene abbiamo toccato il tema della mobilità abbiamo toccato il tema delle rinnovabili che sono due dei pilastri della transizione ecologica l'altro pilastro è quello dell'ambiente declinato secondo me in città sulle aree verdi la rifornistazione i parchi fruibili Verona dal mio punto di vista ci sono nato e ci ho passato un po' di anni ha una carenza di aree verdi fruibili nelle statistiche che vengono fuori sempre come qualità della vita nelle città eccetera noi ci salviamo perché viene contemplato nel computo del comune l'area delle torricelle che sono a verde ma non sono fruibili e sono di proprietà del demanio tolte quelle se noi andiamo a depurare il dato da quello saremo in una posizione molto più arretrate c'è tanto da fare le aree verdi ci sono è un impegno grosso quelle di andarle a riqualificare e renderle soprattutto fruibili alla cittadinanza immagino le scolaresche vediamo le scolaresche in questo periodo che sono strette in due giardinetti anche perché i parchi che ci sono sono periferici come in borgo Roma da questo punto di vista quanto c'è da fare assessore e come intendete muovervi allora la sua domanda sono imparziale disaccordo nel senso che allora quanti di voi adesso guardo sempre ma in realtà questa è aperta tutta la platea quanti di voi un sabato vanno in un parco cioè a passare del tempo cioè quindi che non vanno magari vanno in un parco vivono il verde ok beh intanto c'è una timidezza vedo che ci sono persone cioè io credo che ci sia anche culturalmente qui un tema nel senso che c'è un'assenza di aree verdi fruibili siamo d'accordo c'è anche secondo me un'idea di pianificazione del verde molto residuale cioè noi abbiamo sempre considerato facciamo questo parallelismo tra la pista ciclabile verde noi abbiamo costruito nel tempo piste ciclabili sul marciapiede che è di fatto una un cortocircuito mentale perché se io ho una carreggiata io ho un marciapiede dove va il pedone e quindi il pedone l'anziano con scarsa mobilità la coppia la mamma il papà col passeggino poi c'è una strada che dovrebbe essere divisa tra chi si muove quindi macchina bici trasporto pubblico e poi ancora il marciapiede quello che succede e provate a fare questo esperimento quando tornate nelle vostre case a verona è che molto spesso vedete piste ciclabili sul marciapiede perché perché noi abbiamo sempre considerato di fatto la mobilità come una mobilità su auto e tutto ciò che è una mobilità su auto residuale rispetto rispetto al spazio pubblico quindi se io avevo da progettare 100 metri di larghezza davo 95 metri alle auto e 5 metri a tutto il resto questa scelta non è una scelta cioè non è un dogma di fede nel senso non è una scelta che tutte le città fanno ma è una scelta politica politica non di destra di sinistra attenzione ma è una scelta politica di mobilità la stessa cosa un po sul verde cioè noi abbiamo sempre considerato il verde come spazio residuale dove allocare un giardinetto un campetto il parchetto ci sono state scelte invece sicuramente lungimiranti penso a parco san giacomo che di fatto è il parco più frequentato ea città perché effettivamente è un parco all'interno del quartiere con sicuramente pianificato in modo in modo sensato e anzi è una risorsa però se noi continuiamo cioè se noi pianifichiamo il verde come spazio residuale di fatto non diventa uno spazio fruibile diventa uno spazio a sé quindi la grande sfida scusate diciamo la teoria poi bisogna capire siamo capaci di farlo ma questo è l'ideale che ci anima è che noi dobbiamo piano piano tentare un po di rinaturalizzare la città cioè non solo pensare a parchi diciamo così isolati che va bene ovviamente progettati all'interno del quartiere ma dobbiamo cominciare a far sì che gli spazi urbani quelli che noi conosciamo si trasformino sia in quota verde e quindi con la rinaturalizzazione di alcune aree ma sia anche in quota di pedonalità barra maggior vivibilità nel senso che la grande sfida e anche qui non spesso popolare è trasformare lo spazio che noi adesso abbiamo perché trovare nuove aree verdi possiamo c'è tutto il progetto dell'ex calo ferroviario su cui ovviamente stiamo continuando il lavoro diciamo cominciato dall'amministrazione precedenti per questo grande parco nell'area dell'ex calo merci quindi dietro di fatto la stazione porta nuova c'è questa grande area diciamo attualmente dove vedete treni merci che sarà trasformata in un parco ma oltre questo serve e la grande sfida che è molto complessa è quella di immaginarsi attuali strade attuale vie che sono di transito come invece vie magari pedonali vie rinaturalizzate quindi vie e strade e luoghi a disposizione della cittadinanza è chiaro che questo approccio è molto sfidante perché va a cambiare chiaramente le abitudini di mobilità le abitudini anche di chi li ci vive significa ogni volta che pedonalizzi che togli il parcheggio e che è un'altra sfida molto complessa e quindi il verde a verona c'è secondo me e siamo anche fortunati perché quando parliamo di torricelle parliamo di uno spazio verde dove sono le mura che sono a dieci minuti da ponte pietra cioè quindi dal pieno centro e abbiamo anche delle aree verdi fruibili ci vanno pochi veronesi abbiamo il parco delle colombare che è a sette minuti a ponte pietra abbiamo tutto il parco dell'adige abbiamo un grande spazio che diciamo non è pubblico ma è privato che quello di villa buri che però è un grande polmone verde abbiamo il boschetto sempre a san michele cioè abbiamo aree verdi quello che secondo me manca è questa interconnessione tra quello che attualmente è considerato città e quartiere e diciamo la vivibilità dello spazio quindi io credo che la grande sfida sia oltre a trovare nuove aree verdi quelle proprio di cambiare la conformazione attuale della città attraverso attraverso interventi come dire anche coraggiosi su questo se volete avere un termine come dire di ispirazione poi lo lasciamo come termine ispirazione difficilmente copiabile a parigi la sindaca di parigi ha chiuso praticamente le strade che erano lungo la senna che erano di fatto strade carrabili quindi c'erano solo macchine e le rese tutte pedonali o per biciclette ha fatto quest'operazione per un anno credo abbia avuto proteste in piazza per un anno adesso è andata a parigi e vedete cosa è diventato quello spazio è chiaro che non c'è verde nel senso che non è un prato però sicuramente è uno spazio più vivibile e una trasformazione dell'esistente in chiave di fruibilità di sicurezza e quindi di spazio per il benessere dei cittadini grazie volevo sentire se c'erano delle domande da parte del pubblico da parte dei ragazzi se voletevate chiedere dei chiarimenti al sessore se avevate delle proposte se volevate segnalare qualche situazione in città che vi sta particolarmente a cuore se volete io ho il microfono il microfono è a disposizione tra gli spazi fruibili faccio io una piccola domanda però intanto voi pensateci perché dopo vogliamo le domande vostre tra gli spazi fruibili da riqualificare rimettere in funzione potrebbe essere uno sfogo enorme c'è l'arsenale ovviamente che se messo a verde potrebbe dare respiro a tantissimi turisti oltre che tantissimi veronesi sì sì beh ma voglio dire in quanti siete andati qua dietro nel parco del bastione maddalene tra di voi bravo pochi pochi però pochi sì no lo usano però se pensate adesso al di là perdonatemi la battuta al di là che capisco il tema del paesaggio per cui uno da fuori deve vedere la facciata di dell'università che è bellissima però ecco la decisione non si può piantare alberi per che oscurano la facciata università mi pare come dire un po antistorica anche perché se a luglio uno viene qui senza alberi si abbronza ma credo che possa star qui dieci minuti dopo di che rischia di star male però lo sforzo è quello di rendere questi spazi verdi degli spazi vivi perché un po per cultura un po anche per questa idea no di questi spazi diciamo confinati molto spesso non vengono vissuti come spazi veramente urbani ecco io credo che un'altra sfida sugli spazi verdi sia quelli di darci una programmazione quindi anche portare attività all'interno degli spazi verdi può portare anche a più persone a ruirne siano eventi culturali eventi di altro genere quindi questa è la sfida sull'arsenale come dire un progetto che va avanti ormai da parecchio tempo ci sono questi fondi PNRR che andranno a sistemare una parte dell'arsenale non tutta mentre sul resto come dire stiamo trovando la soluzione più idonea però ecco credo che come tutti i bastioni necessitano di un piano di gestione che stiamo portando avanti per renderli fruibili anche quello è un verde urbano vicinissimo alla città perché uno da piazza bra a tutta la cintura dei bastioni che è una cintura verde è chiaro che attualmente considerato un posto insicuro è un posto poco vivo e quindi la grande sfida è quella di riattivarlo ecco si riattivano anche attraverso forme di vivibilità e di conoscenza di quegli spazi quindi in questo senso era imparziale disaccordo però serve ovviamente investire per renderli più attrattivi secondo voi qual è il motivo per cui in questo momento c'è tra virgolette il problema che le aree verdi sono poco utilizzate cioè per quale motivo le persone non le usano una bella domanda perché non so se vi è capitato vi capiterà di andare all'estero quando uno va all'estero prende sempre il trasporto pubblico e va sempre nei parchi poi torna in italia non va mai nei parchi e prende sempre la macchina questo è una cosa curiosa ma io credo che sia un tema un po culturale nel senso che noi viviamo molto di spazi sociali vivi nel senso che tendiamo ad andare dove ci sono attività più che a diciamo fare meeting spontanei ecco quindi credo che sia diciamo un cambio culturale che comunque sta avvenendo soprattutto anche progressivamente in parte per la vivibilità che danno gli spazi verdi anche a fronte secondo me di temperature cioè a un certo punto è molto meglio andare in un parco sotto un albero che stare magari in una piazza cementata o in un bar fuori e in parte però anche vero che abbiamo forse poco investito in queste aree verdi cioè io credo che anche solo fare al concentrarci su attività culturali all'interno di aree verdi possa portare la conoscenza di queste aree verdi possa portare alla loro conoscenza segnalo tra l'altro su questo che l'assessore benini che è l'assessore appunto a il verde e ha ieri fatto una conferenza stampa su parco scenico mi sembra che si chiami e cioè lo trovate online e sono credo spettacoli teatrali all'interno dei parchi questo credo che sia un inizio interessante e cioè cominciare a far capire che l'area verde è uno spazio urbano vivo esercita secondo me un'influenza quindi molto spesso noi non utilizziamo come le aree verdi in parte perché aree verdi fatte bene non ce ne sono tante dove sono fatte bene sono molto vissute ripeto parco san giacomo è un parco che se voi andate dalle otto di mattina fino alle dieci sera c'è sempre gente perché un parco vicino al quartiere contornato da un'alta densità abitativa eccetera dove non ci sono queste condizioni secondo me noi come comune dobbiamo un po spingere anche alcuni eventi alcuni progetti affinché quegli spazi si popolino e occupandoli con questi eventi facciamo sì anche che siano meno insicuri perché un'altra tematica è che magari la sera in alcuni spazi verdi si generano sensazioni di sicurezza e quindi una persona non vuole andarci volentieri perché di fatto si sente insicura quindi credo che sia un po un po questa la sfida renderli più attrattivi fare attività all'interno il combinato disposto delle due può generare come dire migliorie buongiorno e faccio una domanda diversa dal mio studente volevo chiedere però da docente questo come avete valutato quindi anche il rapporto e parlando con l'azienda trasporti di iniziare questi lavori in centro poco prima poco più in realtà di un mese dalla fine delle scuole vedo che i ragazzi comunque arrivano siamo pienamente contenti quindi vuol dire che la collaborazione ha funzionato grazie arrivate tutti in orario insomma siate sinceri rispetto a prima è tanto peggiorata però adesso facciamo la cicla mettiamo in piedi al ciclabile di basso acqua che non c'è adesso comunque va bene e gli altri però insomma a parte non è che prima si arrivasse super puntuali adesso a nord del vero però sui cantieri in realtà perché è stato scelta questa questo periodo allora originariamente l'idea era post vin italy pre vin italy in realtà pensandoci bene e non per essere sabici ma è molto funzionale averli cominciato adesso perché li avessimo cominciati a settembre non avremmo avuto la possibilità di testare per un mese se il trasporto scolastico così come era stato concepito con il cambio in stazione sapete meglio di me se effettivamente poteva reggere sì ma dove anche poterlo cambiare quindi questo mese ci permette di applicare tutti quei cambiamenti per arrivare a settembre ancora più fluidi in realtà questo cambio viabilistico ha alla base la protezione del trasporto pubblico perché ci sono più corsie preferenziali e devo dire dai dati che abbiamo e abbiamo notato più criticità sul trasporto privato cioè meglio la criticità sul trasporto pubblico c'è stata però per l'arrivo scolastico abbiamo notato in paragone molte meno criticità sul trasporto pubblico che sul trasporto privato questo di fatto per noi è un buon risultato perché una delle nostre priorità era quello di far sì che studenti e studentesse potessero arrivare a scuola con l'autobus puntuali perché se incominciavamo a avere ritardi alti mettavamo ovviamente in crisi sistema scolastico le lezioni l'organizzazione e questo era un rischio che non ci volevamo prendere quindi al netto di alcune criticità che ci sono come ovvio perché chiudendo insomma una viabilità importante ci sono però i dati sull'arrivo degli autobus agli istituti fino adesso ci confortano abbastanza perché ripeto ci sono alcune criticità che c'erano anche prima alcuni ritardi in più ci sono stati però ecco di fatto dai dirigenti scolastici ci arrivano notizie di dei ritardi più o meno nella norma con ovviamente alcune criticità che stiamo risolvendo bene dobbiamo chiudere perché il tempo è volato e dobbiamo lasciare spazio agli incontri successivi io ringrazio gli organizzatori ringrazio moltissimo voi perché è stato un bagno di gioventù rigenerante e ha fatto molto piacere vedere tanti ragazzi interessati ringrazio l'assessore che è stato estremamente disponibile a tutte le domande e auguro buon lavoro al festival del giornalismo bene grazie ancora in bocca al lupo al festival grazie buon lavoro scusate se sono passato davanti allora intanto ringraziamo maurizio battista per aver intervistato l'assessore alla transizione ecologica alla mobilità del comune di verona tommaso ferrari a cui diamo ad entrambi due come dire omaggi che arrivano dai nostri sponsor Bosco De Cerri e Cantina di Monteforte The Hub che coinvolge le donne che sono in difficoltà per dei lavori e che ha inserito all'interno della nostra borsa alcuni oggetti e più altri vari ed eventuali che adesso non ricordo vi chiedo scusa cinque minuti di pausa e poi torniamo qui per l'ultimo incontro di questa mattinata grazie ancora a Tommaso Ferrari e a Maurizio Battista un applauso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti